Bentornati qui su Chain Together, che è una sorta di only up più alto F4. Allora, io muovo i bariletti. Allora, secondo me qua salto sul posto e poi ti muovi in avanti. Tanto il nostro scopo è aggrapparci, non atterrarci sopra. Quindi saltiamo e poi andiamo avanti. 3, 2, 1. Ok. E adesso saltiamo proprio. 3, 2, 1. Non m'ha saltato eh. Allora, io farei così. Cambierei un po', poi salto 1 e salto 2. Il problema è che poi ti ritrovi sulla seconda. Cioè se fai così, salto 1, salto 2 e poi ti becchi questa. Dobbiamo fare quanto stanno qua? E dobbiamo correre? A meno, saltiamo due volte al centro. A meno che non stiamo al centro, direttamente. A meno che saltiamo al centro e corriamo. Quando si incontra. Ok. Vai. Merda, sbura. Dopo il trifolo. Buono, buono. Non era così che doveva andare. Però è andata bene, vai. Porca puttana che angoscia. 3, 2, 1. Trampolazzo. Vabbè saltiamoci sopra e vediamo. Ah va bene, vai. Rimaniamo, rimaniamo. Dove cazzo dobbiamo andare? Ah, su sto coso. Madonna che non t'avevo a madonna. Allora. E qua dobbiamo contare. Ce la facciamo da qua? Ma avviciniamoci un po' di più. Di qua, di qua, di qua. Da sto lato? Eh sì. Ok. 3, 2, 1. Io penso che sbatto eh. 3, 2, 1. Vai. No, no. Tranquillo. Salta per... Salta e tieni prudito salta per aggrapparti ai ganci. Oh, non te ne andare. Tieni prudito. Va bene, porta via. Che troia. Io se lascio muoio eh. Eh, no, 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 non devi lasciare. Non possiamo morire adesso. Non c'è niente sotto, tra le altre cose. Ma io dove cazzo devo andare? Aspetta. Ma non è che io devo dondolare a un certo punto per farci lasciare andare? Ma cazzo dondolare. Ok. Ok, ok, grazie. Facciamo, facciamo un... Perché ti sei... Porca troia! Ok. Perché ti sei lasciato andare? Non è che ci portava più su. No, c'è un quad. È chiaro che vedi? Quindi abbiamo la macchina adesso. Stai guidando tu eh? Vai. Io che cazzo devo fare mo'? Devi guidar. Madonna, è inquidabile. Ci hanno messo dei trampolini in mezzo alla strada. Attento. Bravo, bravo, bravo. Poteva andare molto bene. Occhio e bughe, bughe, bughe. Bugha. Porca puttana. Anche perché ci sono delle parti qua. Sì, conviene prenderla tutta a sinistra in realtà, sai? Esatto. Proprio come hai fatto tu. Nel mezzo. Sì. Vai, vai, corri! Che cazzo sono qui? Occhio. Ok. Occhio. Occhio. Madonna ragazzi. Meno male che doveva... Vicino al coso, vicino al coso. Tutto a destra. Vicino al coso. Vicino al cordolo. Orca trovi la retromarcia velocissima. Esatto. Proprio vicino al cordolo. Sì, sì. Ma tanto io ho capito più o meno il tempo. No, non mi butta giù. Mi dà un colpetto ma sta a posto. Finita la macchina. Dici? Che bella animazione. Hai capito? Ah, si gira. Mentre va. No, però è una grata. Dobbiamo aggrapparci. Orca puttana. Gira pura. Orca puttana. Orca puttana. Ok, ok. Orca. Vabbè, è facile, è facile. Fattibile, fattibile. In quattro è un delirio secondo me. In due è quasi, vai. Salta, salta, salta. Salta ancora, mamma mia. Eh, ho corso. Un attimo, prova. Ok. Ciacristina. Eh, no, era dovevamo capire. Ok. Ti spinge fuori tendenzialmente. Ok. Va bene. Vabbè, saliamo su sto cazzo. Dobbiamo saltare su questo e poi risaltare qua. È fatto. Ci scattisco. Però abbiamo capito due cose importanti. Che dobbiamo prendere il tempo. Scusate, guardiamolo bene. No, no, devi saltare qua sopra. Poi devi saltare qua sopra. A posto. Sali su, sali su, sali su. No, non ci arrivi. Ok. A posto. Non sono contento. Mi tiri su? C'è il pull. Se no mi pulli... Eh, ma... O scendi tu al piano di sotto, se no non maciardo. Aspetta. Scendo io al piano di sotto. Preferisco. Ok. Salta. Ok. Pullami, pullami, pullami. Ma non ti riesco a pullare? Perché se mi giro verso le idee casco. Allora, scendi giù. Rinizziamo da capo insieme. Ma no. Ok. Ok, vai. Al prossimo. Ok. Aspetta, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo un po', un po', un po', un po'. Salta, salta, salta. Andiamo a lungo. Ah... Capito perché non vuoi pullare? No, ma ti posso tirare su. Se è questo il Cristo di tasto. Scendiamo. Ma perché non mi fa... Non ti fa pullare perché per pullare devi stare rivolto verso di me. Se ti rivolgi verso di me, cadi. Eh, io... no, ma ce l'avevo. Ci stavo verso di te Questo Ok Saltiamo insieme Vai Su Arcatrò Che culo Ho fatto bene Sopra Bravo Ok Adesso Salta I quali 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 Vai salta 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 Sono rimasto giù Ok dai 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 Forse mi puoi Orca puttana Una volta è uscito il pull Ok dai vabbò Però non è difficile È stronzata Salta Ecco esatto No 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 Orca puttana Io l'ho lasciato andare Aspetta Togliamoci da stu cazzo in culo Ecco da qua Da qua Siamo vicini al Ok Dai Di qua Vai Bella Sempre da qui Sale Cristina Davina No no ce la facciamo Ce la facciamo Porca di Che ha pianto Andiamo a piastra la macchina No vabbè basta che saliamo a piedi Dico Cioè con la macchina Era molto più difficile Calcolare ste cose qua Che odio sta cosa Salta Ma perché ti ascolto Aspetta aspetta ma se Cazzo siamo fuori dalla macchina Teletrasporto Logo più Vicino Il logo più vicino è l'inizio Cristo Questo No raga no Ma è deprimente Ma non è perché i checkpoint sono messi molto lontani Ma ci fossimo arrivati almeno a un checkpoint Non ci siamo arrivati Eh ma che vuol dire Io ho fatto punto di sblocco più alto E qui siamo arrivati come ultimo punto di sblocco più alto E quindi ci ha teletrasportato su E' tipo un cheat Che a me va benissimo eh Chiariamo Porca di quella troia maledetta Vabbè questa è una parte un po' ballosa Vabbè basta Quindi Cioè è brutto però così Mi ha perso un po' di capito questo gioco No no invece a me piace Eh ma Non c'è tanto da fare adesso Cioè sì Porca troia Non c'è più il terrore negli occhi che avevo prima Ma adesso Dai questa ce la facciamo al volo Da destra verso No da sinistra verso destra Vado? Vabbè Vai Vai Al volo al volo Al volo Cristina del D Non ho più paura Cioè non serve più a niente questo gioco Non ti preoccupare ti tirerò io su Esatto Sai che adesso che non hai paura giochi molto peggio Vabbè ma è passata l'armonia La passione Vai 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 Ma no ma perché non riesco a prendere il volo? No niente raga non è più concentrato Non è che glielo devi dire a loro che non sono più Non è più concentrato Mi ha perso di fascino questo gioco adesso Aspetta Vai Ancora Aspetta Adesso Sì Si è aperta una scala A tempo A tempo È partita la musica temporizzata No no per questo non sentivo niente Non ce lo avevo No non dobbiamo prenderci Dobbiamo saltare precisi Dobbiamo essere rapidi Se mi aspetti un secondo Magari che mi riesca a rialzare Va Ma secondo te è a tempo? Oh merda Salta 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 Madonna santa Vabbè dai Aspetta Eh però non è Quanto odio sti cosi Ok ho colto un'opportunità Continua Abbiamo colto un'opportunità in due adesso Cogli l'opportun... No 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 la cogliere Fermo Io potevo colto Eh no perché dobbiamo capire qua la situazione Salta Non bastava camminare Hop Oh no Cogli l'opportun... Siamo finiti nel blu dipinto di blu Adoro raga Cioè Adesso è fantastico Cogli l'opportunità Tanto si ripuò iniziare Sì sì ma Attenzione Bravo Bravo Tirammi su Non so dove No Eeeeee Dai a destra Dai 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 Concentramosi Sì sì Allora appena c'è questo Subito a destra Subito a destra Anche adesso E adesso E' facile Salta Salta significa Conta fino a uno e salta No per cortesia eh So io quello che c'ha problema Salta Bravo Pronto Pronto Salta Salta Bravissimi Andiamo sopra Con calma E qua No è facile È facile Devi andare sulla punta puntina Poi devi mettere Tre Due Uno Salta Perfetto Abbiamo sbagliato Allo stesso modo Alexa che ore sono? Alexa che ore sono? Grazie Alexa Grazie Alexa C'è la voce di Rocco Io non ho ancora capito i comandi Comunque Manco io Vado un po' a sensazione Vedi questo è il checkpoint Ma che cazzo ci serve tanto? Vabbè Io direi di fermarci qui Abbiamo raggiunto il primo checkpoint Bene Facciamo almeno sto salto Dai con la rincorsa Vai Vai Addirittura Bravissimi Ragazzi Noi ci vediamo al prossimo episodio Lo finiremo Perché ormai Non abbiamo paura Di niente